Musica Celebrata in aula la giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo Pista Bob di Cesana, quale futuro? Crisi idrosapiens di Leni, delegazione sindacale ricevuta in Consiglio Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, fenomeni insidiosi che colpiscono i nostri giovani Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia in occasione della giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo celebrata nell'aula del Consiglio Voglio ricordare ancora una volta l'impegno di papà Paolo Picchio sua figlia Carolina è stata la prima vittima del cyberbullismo La sua è una battaglia per difendere i nostri ragazzi, i nostri figli Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha voluto celebrare la giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo Secondo una ricerca condotta da Save the Children il 13,7% degli adolescenti piemontesi tra gli 11 e i 13 anni ne è vittima e sono in crescita i comportamenti a rischio di dipendenza tecnologica A partire dal 2018 il Piemonte si è dotato della legge regionale denominata disposizione in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo Il bullismo è violenza psicologica, è libertà senza obblighi e doveri, è isolamento Questa giornata deve servire per riflettere sul fenomeno del cyberbullismo e del bullismo domandandoci quali siano le ulteriori strategie da mettere in atto affinché tutti i ragazzi, più o meno piccoli, possano sempre più riconoscere i pericoli nella rete e combatterli Quale sarà il futuro della pista da Bob di Cesana? Il tema è stato al centro dell'interrogazione che il consigliere Europa Verde Giorgio Bertola rivolto all'assessore allo sport Fabrizio Ricca nell'ambito dei question time Pista da Bob Cesana Pariol, ora che si è deciso di realizzare un nuovo impianto a Cortina come intende la giunta regionale ad operarsi per rinaturalizzare il sito di Cesana Questo l'interrogativo che il consigliere di Europa Verde Giorgio Bertola ha rivolto in aula all'assessore allo sport Fabrizio Ricca nell'ambito dei question time L'aver candidato Cesana per la pista da Bob, Slitino e Skeleton, nonostante la scelta finale di Cortina ha sottolineato l'assessore Ricca, ha permesso al Piemonte di ottenere all'interno degli 800 milioni di fondi FSC risorse pari a 13 milioni di euro che potranno essere utilizzati per ragionare sul futuro di Cesana Questo, ha puntualizzato l'assessore, non vorrà dire mantenere necessariamente la pista da Bob Si sta valutando anche un possibile smontaggio, ipotizzando una soluzione più rispettosa della natura un prato o un parco avventura che sarà in ogni caso concordata con il territorio In poche settimane dovrebbe partire un percorso di consultazione con gli enti locali ha puntualizzato il consigliere Bertola Sosteniamo, da tempo, l'assurdità di spendere milioni di euro per rimettere in funzione un impianto per pochi giorni con il ragionevole rischio di abbandonarlo nuovamente all'incuria e all'inutilizzo Nella seduta di martedì il consiglio ha votato due nomine per la fondazione e comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025 Gianluca Nocetti è stato indicato come rappresentante del consiglio di amministrazione e Gianpiero Collidà componente del collegio dei revisori Crisi idrosapiens ricevuta a Palazzo Lascaris una delegazione dei 44 lavoratori dello stabilimento di Leini a rischio licenziamento Il presidente Stefano Allasia e il vicepresidente Daniele Valle e numerosi consiglieri hanno ricevuto la delegazione di sindacati e lavoratori della idrosapiens di Leini L'azienda metalmeccanica ad altissima tecnologia che opera nei settori energetico e aero-spaziale è in liquidazione volontaria dal 19 gennaio da parte della multinazionale tedesca Witzermann La crisi coinvolge 44 dipendenti a Leini e 4 nell'ufficio commerciale di Cormano in provincia di Milano ed è giustificata da parte della controllante dalla situazione del mercato che è crollato negli ultimi anni a seguito di un concorso di fattori tra i quali la situazione pandemica, sanzioni economiche legate ai conflitti in corso e crescente decarbonizzazione Contrastare questo stilicidio di aziende è sempre di più che stanno perdendo nel Torinese e in tutto il Piemonte Stiamo vedendo che purtroppo la crisi non è solo Stellantis ma è un po' in tutti i settori L'assessorato al lavoro ha garantito il massimo appoggio tecnico con ogni strumento a disposizione L'RSU chiede alla politica che questa azienda non debba morire perché sta morendo il canavese di intervenire convocando la casa madre se è possibile l'amministratore delegato per poter trovare una soluzione per la ricollocazione di queste cose Lotta al tumore al seno è partita la campagna di prevenzione dell'Andos patrocinata dal Consiglio regionale Al via la campagna La Regione si colora di Rosa 2024 rivolta alla promozione dei programmi di screening e alla prevenzione del tumore al seno Dal 2022 Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al seno, Comitato di Torino in collaborazione con il Consiglio regionale attraverso la consulta femminile regionale ha avviato questa iniziativa offrendo gratuitamente palloncini rosa serigrafati con la scritta La prevenzione salva la vita per decorare piazze e luoghi pubblici oppure promuovendo l'illuminazione di monumenti o edifici simbolo Il Consiglio regionale vuole esserci su queste problematiche perché la prevenzione vuol dire salute Nel 2023 sono stati 97 i comuni che hanno aderito all'iniziativa e altri se ne stanno aggiungendo È importante che tutte le donne abbiano pari opportunità anche se si trovano nei comuni montani nei comuni più lontani per raggiungere con comodità i centri di prevenzione In Italia abbiamo 55.000 nuovi casi di tumore della mammella in Piemonte 4.500 Quindi è molto importante lo screening che ha ridotto da solo del 50% la mortalità A Palazzo Lascaris le campionesse regionali di basket femminile Ricevute a Palazzo Lascaris le ragazze e lo staff tecnico e dirigenziale dei gruppi La Polisma e il Basket Torino Under 13, Under 14 e Under 15 campionesse regionali di basket femminile per la stagione 2022-2023 A tutte le giocatrici è stato consegnato un attestato di merito e una coppa a nome del Consiglio regionale È una bella emozione, il duro lavoro ha ripagato e quindi siamo molto contente E far parte di una famiglia perché per me andare con loro è come andare in una seconda casa Dal 2012-2013 è iniziata l'esperienza del primo nucleo di basket femminile e quindi un'esperienza di crescita nostra nel mondo dell'agonismo che pian piano abbiamo conosciuto e cominciato a scoprire in quelli che sono le gioie che oggi festeggiamo e anche le sofferenze di riuscire a mantenere un movimento così importante Per mantenere vive le tradizioni del Piemonte a livello culturale e identitario presenterò una proposta di delibera per unificare e riconoscere ufficialmente sotto un'unica legge le maschere delle province dei comuni piemontesi i gruppi e le manifestazioni storiche Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea legislativa Stefano Allasia durante l'incontro a Palazzo Lascaris con Giandui e Giacometta e il gruppo di ballo di Piemonte Cultura i Danseurs del Pilung a cui ha preso parte anche il componente dell'ufficio di presidenza Gianluca Gavazza Sentiamo le parole di Gianduia Il Consiglio regionale del Piemonte è la casa dei piemontesi la casa dei cittadini dove nascono le norme giuridiche e quindi l'impegno del Consiglio regionale che ci vede affiancati in questa missione è quella proprio di farsi creare tradizioni a cui si non crisma legislativo, giuridico e quindi solenne per tutti i cittadini Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie! 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 Grazie!